credit management and collection award 2019 quarta edizione siamo con carlo vernuccio chief credit management officer di do bank e gli chiediamo che cosa significa questo premio di eccellenza intanto ringrazio tutti per avermi scelto ed è stata per noi che veramente una sorpresa l'eccellenza devo dire che uno degli obiettivi che abbiamo all'interno della nostra azienda che riguarda chiaramente l'impegno e lo sforzo da parte di tutti nel cercare di fare bene quello che il nostro la nostra mission svolgerla al meglio e soprattutto nel nel seguire costantemente i nostri clienti e nostri partner in maniera tale da essere sempre al loro fianco nell'evoluzione in un mercato che è sempre più dinamico e consentire loro di trovare soluzioni che possano diciamo supportarli al raggiungimento dei loro target dei loro obiettivi quindi diciamo che è una qualità che va ricercata costantemente nei processi nell'impegno da parte di tutti chiediamo anche un commento al mercato degli npl del 2018 2019 come iniziato al 2018 indubbiamente abbiamo visto abbiamo assistito alle operazioni molto importanti che hanno riguardato le principali banche le prime 4 5 banche del paese quindi hanno riguardato principalmente le cessioni portafogli e operazioni che riguardavano le cosiddette gags cioè le cartoralizzazioni con l'assistenza della garanzia statale agli inizi di marzo questo schema sostanzialmente è scaduto e ci si augura che venga rinnovato la probabilità che accada è molto elevata tra l'altro e sicuramente potrà essere di stimolo per l'anno 2019 dove però ritengo che una delle attività che verrà sviluppata molto di più e ci sarà un focus importante non è più sul settore degli npl ma sul settore degli utp negli unlikely to pay che sarà sicuramente come dire la nuova frontiera e il nuovo campo dove tutti i servicer e i soggetti specializzati ci metteranno nel cercare di trovare delle soluzioni per la gestione efficace e efficiente di questi asset che non sono soltanto appunto come dei crediti defaultati ma sono dei crediti che riguardano aziende che sono vive dove c'è un impatto anche di tipo occupazionale che non va trascurato e che è indubbiamente l'aspetto più interessante direi che questa è una nuova sfida che noi cercheremo di svolgere al meglio comunque ci impegneremo, faremo del nostro meglio per essere protagonisti anche in quest'altra area grazie grazie a te grazie a te